Buon pomeriggio a tutto il pubblico di Pagella Non Solo Rock e di Polvere Magazine Siamo qui in compagnia di... Mantide Ok, raccontaci un po' chi sei, qual è il tuo progetto, tutto quello che c'è da sapere su di te Ok, io ho iniziato a fare musica da quando sono piccolo e sono qui perché amo la musica e voglio farmi sentire e capire cosa sono capace di fare e anche di far sentire agli altri cosa sono capace di fare Beh, mi sembra tutto un buon proposito Come ti senti prima dell'esibizione che stai per affrontare? Allora, c'è un po' di ansia però ho imparato che prima di un'esibizione bisogna canalizzare quest'ansia per poi durante l'esibizione impegnarsi e dare il tutto di se stessi Giusto, giusto, mi sembrano belle parole E progetti futuri? Cosa hai in mente anche di fare al di fuori del contesto di Pagella Non Solo Rock da qui in avanti? Allora, io sto iniziando a tradurre quindi mi piacerebbe autotrodurmi e magari riuscire a fare un album mio poi da pubblicare e per adesso sto imparando quindi fino a poi ce la faremo, dai Dai, ti auguro un enorme in bocca al lupo e anche per la tua esibizione spacca tutto e ti mando un grande abbraccio